Tornati ragazzi, ripartiamo Sono andato nel mercato, ho preso un po' di munizione, un po' di steampack Torna Purissima questa parte, ho già provato un paio di volte ma non penso che il risultato Non penso che il risultato, non penso che il risultato, non penso che il risultato Oh, ci sentiamo perduti Patetico Allora, ecco qua Ok, volevo andare di qua Cazzo, ho sparaturato qui, non vedo niente Dunque qui c'è un passaggio Vai Dove sei? Dove è rimasto? Cosa stai facendo qua? Dai, vai per il porca puttana Che nervoso, sto coso È toccato lì? Io non ho Vabbè, proviamo a far così va Qui c'è questo passaggio Vediamo se è Cambiamo il scenario Per esempio Per esempio In teoria si Nice La dovrei trovare adesso le spalle Eccola qua Allora, qui sotto c'è un ghoul In tutto In tutto Qua Qua Non c'è niente interessante Allora, là in fondo Sono Tutti Devo Sbicchiare Sbicchiare In fondo Già controllato Non c'è niente Probabilmente Probabilmente Sbicchiare Sbicchiare Elvenimento Di ora qui c'è una granata una mina tutto mancato c'è questo qua da dietro da dove è spuntato? da dove è spuntato? da dove è spuntato? allora allora qui 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 che adesso che ci penso di fatto deve andare a prendere le granate ci sentiamo perduti patetico patetico a ora ora faccio un cazzo non le avevo viste quelle ma da dove ha spuntato vabbè prima non c'era a tempo piter si è incastrato non non che non 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 ma non 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 Questa tradizione? Qui cibo? ah ecco forse era questa la galleria come andavo dalla parte sbagliata uscivo hey e la mappa la mappa al dettaglio di fallout 4 è sempre stata così non c'è nessuno Non credo che questa volta funzionerà Questo è diverso Listo? So farlo anch'io Smettila di agitarmi Scusa So che non puoi farne ancora Dobbiamo tenere l'uomo finché lei non arriva con una cura Poi cacceremo il cuore e rimetteremo a posto Stemeremo tutto Allora, devo preparare altre sorprese per il nostro Scusa E' sparito quell'altro merdaio Scomparare Figlio di buttana, scompare Ah, ecco forse Ho inventato un Google Allora, ecco forse Buongiorno, adesso quel caso di diffuso di radiazione Dovebbe essere a posto Facciamo una dormita Come si deve Perchè la stanchezza Allora, ecco forse Allora, ecco forse Allora, ecco forse Quindi sbagliavo Prima Perchè E' stato Vabbè Vabbè Sto roba lasciamo Quindi Manca il cinema Sto roba lasciamo Sto roba lasciamo I colpi dovevi essere a posto Anche con gli steam pack Sto roba lasciamo Sto roba lasciamo a a a a a a a a inizio sono qui sono qui questo roba è il rio non è i i i i i i guarda che cazzo dunque non si parla non ho capito bene dove sono e adesso poi c'è la fine di sotto cazzo però porca troia fare per un problema lei non salta di qua spero che te non salti perché qui le macchine ci uccidono che 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 ci uccidono allora l'abbiamo arrangiato dove siamo? la cosa stregata no la giustrina che cazzo sarà il cinema? vabbè vabbè che ci uccidono eeeh mi ha passato che cazzo sarà il cinema Grazie. 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 E poi siamo andati di qua e ce l'ha pregata. Dai Piper, si è fatta. Grazie. Grazie. Vieni. 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 non riesco a trovare sto cazzo di cinema poi al buio dai su 65 ma che roba è impossibile prendere è stai lì ah questa era l'uscita dell'altra c'è anche tu incredibile eh ma ce ne sono molti altri ok 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 Allora lì dove è che morivo? Qui qua? Allora lì, è un po' di 70%. Allora lì, è un po' di 70%. Dunque però è la strada giusta perché ci sono ancora i gul che si alzano. Forse è quello? Il castello è ancora arrivato. Ah! È giusto il colpo. Allora lì, c'è qualcosa che c'è. Ok. Barriere. Eh, basta bene. Sì, comunque penso... Penso che sia questo qui. Ingo al castle. Un luogo che non abbiamo per esplorato. Porca troia, porca troia, porca troia, porca troia, porca troia. È buio. E comunque più o meno ho capito dove sono. Allora, invece di... La corretta è questa qui. La corretta è questa qui. Oh no, hai disattivato le mie difese. Aspetta che le riattivo. No, non era qua. Non era qua. Dovevo tornare indietro. No, non era qua. non c'è nessuno e si è dura e di qua adesso ci ritroviamo più o meno dove eravamo adesso devo fare ancora tutta l'altra fila, farne fuori 7-8 però devo girare in mezzo alle macchie allora l'altra volta mi è arrivato uno da dietro, da dove cazzo arriva? è dall'alto? c'è da dove cazzo spunta questo qua? eh che mi ha tolto l'energia perché me ne sono accorto tardi allora devi eviterei, dunque qua c'è una bomba non riesco ad attirare ah no ok è andato l'incontro poi ce n'è un altro paio in giro purà basta non, adesso vogliamo essere sospettato che troia non, adesso vogliamo essere sospettato dai merda, merda, in cula cula, merda balla vabbè, vabbè, non siamo lontanissimi poi un'altra tornata delle volte indietro ok vabbè 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 c'è un merdone che arrivò dall'alto aspetta che li riattivo ah guardate allora qui cosa c'era? di là c'era un casino, vabbè forse ce n'è uno da esplodere qui, vediamo se riesco a trovarmi c'è un gulla quello no ma vieni qua, vieni vieni mi muovo ma che roba ma riesco a spezzarlo alle berre vieni qua, vieni vieni qua, vieni vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua dunque adesso ho il critico per quello carbonizzato l'energia bene o male si suolano vieni qua 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 vieni qui qui vieni qua ho fatto vieni qua vieni qua vieni qua quello che c'è lì farlo andare sulla mina tutto è finito vieni pipe, vieni, vieni è morto? spettacolo ah, c'erano le gambe ruote eeeh bilanciante e sparar pioni 165, giuro 165 si lanciano in segno attraffare vieni riusci vieni 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 Ahia nooo figa nooo amiche due folpi eh porco diaz ho tutto da rifare ultimo tentativo eh poi già è l'unico porca puttana troia merda oh ah Grazie a tutti. Grazie. Merda, ma è inculato, ma è inculato in due colpi. È un po' difficile, perché sto... Poi prima di fare gli altri, mi sa che ritorno... È un po' difficile. È un po' difficile. Allora, poi per qua dobbiamo fare un attimo un'operazione di un certo tipo. Allora, allora... Vabbè, questa qualcosa non pesa un chiaro. Allora... 15 meglio l'altro forse è più leggero mi piace una cosa pesante la lascio parca puttana con due figli e qui ricarbonizzati purtroppo richiedono più volti che devo devo passare di livello quanto manca parecchio manca parecchio non ho fatto non ho dimenticato la mia guarda lì che bastardi ho fatto la corsa per cui mancavano anche i punti azione guarda cosa fai tu ma guarda 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 un altro un cazzo questa me la sto giocando veramente male dunque quelli che erano fuori dove erano continuo pure a provare se non hanno la grande oh codia questo lì non mi prende cazzo cazzo allora ce ne erano un po' cazzo cazzo merda 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 porco diaz porco diaz porco diaz ciao 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 ciao